Si chiama Solets ed è un progetto che vede una rete di città, tra cui Torino, impegnate nelle politiche di mobilità sostenibile. Coinvolge 10 partner di 7 nazioni diverse con un budget di oltre 2 milioni di euro. Riunisce città ed enti europei che lavorano su soluzioni di mobilità sostenibile che intendono condividere, attraverso azioni di scambio, informazioni ed esperienze per migliorare le capacità di pianificazione degli amministratori pubblici e sviluppare servizi e prodotti di supporto alle zone a traffico limitato e nei centri storici. L'obiettivo finale di Solets prevede l'elaborazione di 8 strategie o piani d'azione per la mobilità sostenibile, lo sviluppo e l'implementazione di strumenti e servizi innovativi che si adatteranno alle diverse necessità delle città, nel rispetto delle esigenze degli amministratori locali, dei residenti, dei turisti, degli operatori privati e commerciali. In questo progetto rientra a pieno il percorso che l'amministrazione ha avviato e che proseguirà con i residenti, gli operatori economici, gli operatori del trasporto, le associazioni di categoria, per giungere alla definizione di un documento nel quale saranno indicate le nuove policy della futura zona a traffico limitato cittadina, spiega Maria Lapietra, assessore alla viabilità della città di Torino. Solets permetterà di condividere questi risultati con le altre città partner, per offrire e raccogliere spunti di miglioramento reciproci, conclude Lapietra. Tra le soluzioni proposte nell'ambito delle azioni pilota, ci saranno servizi avanzati per il parcheggio intelligente, servizi a valore aggiunto per aumentare l'attrattiva delle zone ZTL, riducendo gli effetti negativi per le restrizioni del traffico, strumenti per la pianificazione del trasporto pubblico, e questo anche grazie all'incremento di basse elettrici nelle città in cui la mobilità pubblica con mezzi elettrici è già presente. Al progetto prendono parte con Torino la capofila Vicenza e le città di Danzica in Polonia, Dubrovnik in Croazia, Graz in Austria, Zilina in Slovacchia, oltre alla facoltà di Mechanical Engineering e Naval Architecture dell'Università di Zagabria, il Centro di Ricerca sui Trasporti della Repubblica Ceca, il Pannon Business Network Association ungherese e il Cordis, partner tecnico che si occupa del sistema di trasporto pubblico integrato della Moravia Meridionale.